Olivera Jeftic, Serbia Montenegro, Aniko Kallovic, Ungheria ma la curiosità dicevo 7 e 7 ma arrivate passate affiancate le due cognate Hailey, Yelling e Liz Yelling, poi un po' più staccate Lydia Gregorieva e le altre Russia e Francia al primo posto nella classifica per nazioni, anzi Russia e Gran Bretagna adesso Via via scala perché può arrivare la quarta al passaggio con il sistema dei chip che viene adottato può passare la quarta, intanto Weisssteiner è la migliore delle italiane con il suo passaggio proprio pochi momenti fa, no è affiancata a Patrizia Tisi, sono assieme adesso il passaggio di Vincenza Sicari non sono ancora passate le quattro italiane, la quarta è Magina Mihalska che è affiancata a Vittoria Salvini mentre ha perso terreno la sesta delle azure, cioè Renate, Rungher, Mihalska e Salvini passate adesso con un'Italia che dovrebbe essere al decimo posto, decimo, decima piazza per l'Italia, questi piattamenti singoli 33 Patrizia Tisi, 34 Silvia Weisssteiner, 60, 50, Vincenza Sicari, 60, Vittoria Salvini, 61 Magina Mihalska ed è scivolata indietro, a questo punto il rischio si si sia ritirata, Renate, Rungher e la Mihalska è rientro dopo un infortunio, la Polaccia si faceva i 400 metri di un ostacolo con un matrimonio proprio con Claudio Pian, è diventata italiana guarda che attacco adesso per l'Ona Kik, la gasta si è un po' rifiatato si è guardata in giro e poi ha dato un'altra sparata mettendo in crisi nell'ordine Sabrina Mokenhaupt la svedese Johanna Nilsson che somiglia molto a Karolina Klips la primatista mondiale e campionessa del mondo e olimpica di Eftaton poi c'è Oliver Eftic, mentre un po' in difficoltà Aniko Kalovic dietro le due cognate Litte e Elie, Yelling provano a riagganciarsi e poi c'è un altro quintetto certamente chi progetta la migliore agli ottimi tempi sulla maratona ma anche sui 10.000 metri in pista lei che è nata nel maggio del 74, dunque 31 anni questa atleta che ha partecipato a tutte le più importanti maratone ragioniamo terza a New York, due anni fa poi ai mondiali di Parigi è stata quarta in pista, veramente eccezionale qui ha dato un incremento passano, transitano Patrizia Tisi e Silvia Weisssteiner sono rimaste un po' fuori dai giochi Silvia Weisssteiner sembra rimontare assieme a Patrizia Tisi non hanno proprio grandi gruppi in mezzo a loro mentre intanto qui c'è la leader Lorna Kiplager che ha fatto veramente il vuoto adesso pur non esperta di questi cambi di ritmo cambi di direzione, lei è oltretutto molto alta però anche molto agile, qui lo vediamo stacca Sabrina Mockenhaus e il pubblico comincia davvero a gasarsi ecco qui Olivera Jeftice, ecco la svedese Nilsson, Johanna Nilsson mentre Aniko Kalovic sembra aver alzato bandiera bianca intanto transitano anche Salvini e Magena Mihalska credo proprio si sia ritirata a questo punto Renate Runger che non è transitata ai 3.160 metri di gara decisamente Chiplager avete visto va dentro nel fangio non va a cercare i punti migliori magari dove spingere correndo all'esterno cerca la linea più breve di corsa vicino alle transrenne taglia le curve anche se c'è fangio entra nelle pozzangie questo è un tratto che ce lo pone potrebbe stare più all'esterno trovare maggiore spinta, maggiore aderenza dunque azione avanzante e invece così fortuna che non ama la corsa campestre la cosa curiosa è che i keniani, gli africani vincono anche, ammesso che così finisca il campionato d'Europa di corsa campestre una manifestazione che è nata proprio perché nel mondiale rarissimamente gli europei, le europee, già meglio le europee o comunque gli occidentali riescono nella corsa campestre femminile rarissimamente toccano palla proprio per questo motivo è nato il campionato d'Europa nel 94 a Olnwick adesso una keniana naturalizzata olandese viene a essere protagonista per il momento non voglio dire primeggiare non voglio dire vincere perché dietro Sabrina Mockenhaupt pare ancora in spinta e pare ancora piuttosto ben concentrato oltretutto a quel punto di riferimento là davanti ecco, i keniani vincono anche l'europeo o rischiano di farlo e certamente questa stretta che fa del bene anche per il suo paese ha speso delle cifre enormi si fa una fondazione proprio per un camp per le giovani atlete keniani sembra di aver speso una cifra attorno ai 200.000 dollari spesa non indifferente per contribuire all'evoluzione femminile dello sport, dell'astetica proprio in Kenya grande corsa per Lorna Kiplagat grande margine per lei Lorna Kiplagat che è prossima ai 4.800 metri il passaggio però dietro non hanno ancora alzato bandiera bianca sono in tre mentre Aniko Kalovic l'ungherese sembra essere staccata che sono Sabrina Mockenhaupt Germania si comincia da addirittura eccoci qui con la vittoria il primo posto per Lorna Kiplagat che è andata a vincere davanti a Sabrina Mockenhaupt il terzo posto poi di Johanna Nilsson il quarto per Olivera Jeftic si cominciava da due terzi del rettilineo finale con Lorna Kiplagat che ha festeggiato la vittoria e allora ecco Aniko Kalovic che riesce a tenere il quinto posto dalla rimonta di chi sta dietro Lissi Elling in primo posto allora il primo posto di Lorna Kiplagat 19.55 il secondo di Sabrina Mockenhaupt 20.00 terza Johanna Nilsson la sorprendente svedese quarta Olivera Jeftic 20.04 quinta Aniko Kalovic che è riuscita a tenere grazie a tutti